Le appena trascorse festività pasquali hanno rappresentato un'occasione per mettere in ordine anche in vista della stagione estiva la zona del lungomare Afano, ma purtroppo stessa sorte non è toccata alla stazione ferroviaria che tra carenze strutturali e immondizia rischia di non essere così accogliente per chi arriva a visitare la nostra città. Il sottopasso quando non è allagato causa pioggia seppur abbellito con murales viene usato come bagno improvvisato e cestino per l'immondizia e il cattivo odore che si respira attraversandolo nella testimonianza e poi indicazioni imbrattate da scritte segnaletica datata e fontana senza acqua rappresentano solo alcuni degli interventi che se fatti renderebbero più accogliente la zona. Il passaggio dei disabili e delle biciclette è spesso ostacolato, l'ascensore non è funzionante così una persona in carrozzina non può scendere o salire in maniera autonoma e gli spazi per i ciclisti non favoriscono le manovre necessarie anche per il trasporto a mano. E infine la videosorveglianza che a detta di molti andrebbe stesa maggiormente sia in tutela dei mezzi parcheggiati che come deterrente contro gli episodi criminali. Grazie.